Benvenuti in questa nuova puntata di Deepen, io sono Zapp, oggi siamo tornati con una fantastica puntata di Deepen Scienza Puntata fantastica e anche improvvisata, perché come dicevo fuori onda ho preparato gli appunti per questa puntata più di una settimana fa e ovviamente mi sono totalmente dimenticato di riguardarmeli, quindi assolutamente oggi improvvisiamo su tutta la linea ma spero che il concetto sia fondamentalmente corretto, nel caso ci fosse qualche imprecisione nella puntata non aspettate, non fatevi problemi a scrivermelo nei commenti, su Youtube, su Facebook, su Instagram, dove vi pare colgo l'occasione per fare una brevissima call to action, perché la mia ragazza mi ha detto che sono troppo prolisso nella call to action quindi oggi facciamo velocissimo, io accolgo tutti i feedback chiaramente e poi agisco di conseguenza siamo in live sia su Youtube che su Spreaker, quindi queste puntate le troverete caricate su Spotify dove vi chiedo di lasciare una fantastica recensione a 5 stelle, condividete la puntata il più possibile spargete la voce, fate sapere a tutto il mondo che esiste di penscienza e che vi piace tantissimo siamo in live anche su Youtube, quindi se volete partecipare potete venire a mettere commenti eccetera eccetera iscrivetevi al canale, mettete like, non fate i tirchi, mettete commenti come dei pazzi perché ci aiuta tantissimo a farci conoscere, a diffondere la voce e insomma ci date una mano chiaramente assolutamente gratuita per voi ma che per noi ha un grandissimo impatto sulla diffusione del podcast, siamo molto contenti di come sta andando nel senso che stiamo facendo dei buoni ascolti, stiamo facendo dei numeri interessanti quindi molto bene così, settimana prossima, anzi questa settimana ci sarà un nuovo caso di Deepin Crimini quindi rimanete assolutamente connessi e continueremo con sempre più puntate di Deepin Scienza che mi piacerebbe venissero coronate da delle fantastiche recensioni da parte vostra su Apple Podcast e Spotify e da commenti positivi, condivisioni eccetera eccetera quindi rimanete connessi e soprattutto state sul pezzo con le vostre azioni, i vostri like, i vostri commenti che sono la linfa vitale di questo podcast oggi facciamo una puntata velocissima perché come dicevo prima in fuori onda ho fatto un incredibile goulash di cui me ne voglio proprio menare in live anche se so che non me ne frega niente ma ho una fame incredibile ho una voglia di mangiare sto goulash che non ne avete un'idea quindi faremo molto veloce oggi parliamo di una puntata, insomma facciamo una puntata interessantissima a proposito dei farmaci generici infatti mi è capitato in queste settimane di parlare alcune volte con conoscenti, parenti eccetera eccetera proprio di farmaci generici quindi di eventuali dubbi o falsi miti che questi farmaci si portano insomma dietro a causa secondo me anche di questo nome generico che gli si affibbia in realtà i farmaci generici dovete sapere che hanno la stessa composizione qualitativa e quantitativa in termini di sostanza attiva quindi la forma farmaceutica identica a quella del farmaco di riferimento quindi dello stesso farmaco di marca nonché una bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità questa è sostanzialmente la definizione un po' da me romanzata che l'AIFA fa dei farmaci generici quindi in sostanza questa definizione è insomma totale non lascia alcun dubbio se infatti andiamo ad analizzare le singole parti di questa definizione avremo la certezza del fatto che i farmaci anche a norma di legge devono sostanzialmente i farmaci generici anche a norma di legge devono essere efficaci e valevoli tanto quanto quelli di marca infatti se analizziamo appunto questa definizione questa ci dice che i farmaci hanno la stessa quantità di principi attivo di quelli di marca e questo è fondamentale stessa quantità di principi attivo vuol dire che avranno la stessa efficacia hanno la stessa forma farmaceutica i farmaci generici con quelli di marca e quindi se il farmaco di riferimento è una polvere anche il farmaco generico sarà una polvere stessa cosa per le pastiglie, stessa cosa per le compresse, stessa cosa per le fiale quindi avranno la stessa sostanzialmente forma avranno la medesima bioequivalenza e quindi questo significa che a parità di dose avranno la stessa biodisponibilità che cos'è la biodisponibilità? ve lo dico subito è sostanzialmente il grado e la velocità con il quale il principio attivo raggiunge il sito d'azione e quindi possiamo definitivamente dire e affermare che i farmaci generici avranno gli stessi effetti farmacologici di quelli di marca quindi perché c'è dietro a questa allo sviluppo di questi farmaci generici e all'acquisto di questi farmaci generici una sorta di diffidenza tendiamo sostanzialmente a fidarci meno di questi farmaci solo perché a mio parere sono appunto corredati da questo nome generico che ci fa sembrare come se sostanzialmente andassimo a prendere qualcosa che non è fatto apposta per me ma che è appunto generico questa parola generico quindi è una questione un po' semantica rende automaticamente questi farmaci dei farmaci di seconda scelta sostanzialmente quindi un'alternativa che magari potrebbe essere utile per chi ha pochi soldi e che quindi non può permettersi il farmaco di marca se andiamo ad allargare questo discorso in maniera un po' becera pensate a una borsa di lusso quella di marca è quella bella è quella fatta bene è quella che dura da tanto tempo non sempre così però in generale dovrebbe esserlo mentre quella generica quella farlocca invece è quella di seconda scelta o quella addirittura creata in maniera fraudolenta e quindi falsa in realtà questo non è assolutamente così per i farmaci generici i farmaci questo tipo di farmaci sono assolutamente efficaci e valevoli tanto quanto quelli di marca quindi se la domanda è sono veramente efficaci la risposta è certamente sì cioè i farmaci generici seguono esattamente le stesse identiche procedure di controllo dei farmaci corrispettivi di marca anche perché non solo seguono gli stessi iter ma gli enti che vanno a certificare i farmaci generici sono esattamente gli stessi che certificano anche i farmaci di riferimento e quindi quelli diciamo di marca non mi piace tanto usare questa definizione di marca perché va sostanzialmente a sottolineare e a potenziare quel bias generato dalla semantica di questi due tipi di farmaci ma effettivamente insomma sulla strada si chiamano così e quindi di conseguenza mi viene anche a me di chiamarli così anche se questa definizione appunto è un po' forviante quindi come vi stavo dicendo prima le procedure di riferimento di controllo sono esattamente le stesse e vengono fatte proprio dagli stessi enti quindi che sono l'AIFA o l'EMA comunque le come dire le organizzazioni che sostanzialmente vanno a controllare tutti i farmaci e tutte le terapie che quindi conosciamo a menadito ormai e che conoscerete se ascoltate da un pezzo di penscienza la differenza che ci può essere tra un farmaco generico e un farmaco di marca quindi un farmaco di riferimento è veramente poca questi due farmaci non possono essere per definizione identici se non per il principio attivo e questo è insomma una norma di legge quindi qualcosa a cui non si può sottrarre ma ci sono alcune piccole cose che possono effettivamente cambiare può cambiare infatti la modalità con il quale chi produce il farmaco raggiunge la produzione del principio attivo quindi se il principio attivo è l'acido acetil salicilico che io lo prelevi da una pianta o che io lo produca chimicamente questo non fa assolutamente alcuna differenza è normativamente permesso produrlo in modo diverso purché insomma la molecola finale sia quella che sia la stessa insomma per il farmaco generico e sia la stessa del farmaco di marca questo a livello chimico biochimico non ha assolutamente nessuna differenza nel senso che insomma abbiamo già fatto questo discorso più volte su Dipenscienza come io arrivo a raggiungere una certa molecola non fa alcuna differenza sulla molecola finale quindi non cambia assolutamente la sua biodisponibilità la sua assorbibilità e quindi tutto questo a livello chimico non ha nessun tipo di differenza un'altra cosa che può cambiare sono gli eccipienti ed è in realtà l'unica macro caratteristica che può cambiare e variare tra farmaci generici e farmaci di marca gli eccipienti attenzione però che sono sostanze che vengono aggiunte al principio attivo e che non hanno alcun effetto farmacologico quindi un eccipiente può essere alcuni eccipienti possono essere sostanze per esempio che variano il gusto di quella determinata pillola o sciroppo o quello che è gusto che può insomma gradare o meno e che quindi può essere diverso nelle varie marche oppure può cambiare il tipo o la quantità di zucchero presente in quel farmaco non è raro infatti che i farmaci contengano dei zuccheri specialmente come dicevo prima gli sciroppi per la tosse che vengono spesso dati anche ai bambini quindi anche per questo vengono resi un po' più dolci per andare a renderli più facilmente somministrabili ai bambini ma in realtà ci sono anche tantissimi altri farmaci che li contengono quindi il tipo di zucchero però non è rilevante può essere una discriminante nella scelta del tipo di farmaco se un paziente per esempio è diabetico e quindi andare a valutare la quantità di uno zucchero di contenuto in un farmaco e se c'è effettivamente differenza su un farmaco generico rispetto a un farmaco di marca allora chiaramente in quel caso ha senso andare a prescrivere uno o prescrivere l'altro perché il paziente è chiaramente a rischio per quel tipo di fattore nutrizionale ci possono o meno essere differenze sui coloranti molti farmaci sciroppi o insomma le pastiglie quelle che si sciolgono effervescenti contengono dei coloranti perché insomma per renderli più attraenti possiamo dire e poi un altro tipo di ecipiente che può variare è sono tutte quelle sostanze che possono alterare in qualche modo la solubilità del farmaco in acqua per esempio quindi ci possono essere effettivamente le differenze su proprio la solubilità e questo può in alcuni casi rari andare a inficiare sulla qualità dell'assorbimento del farmaco ma tendenzialmente anche se variano le sostanze al suo interno poi l'efficacia insomma il fatto che questa pastiglia effervescente o meno si sciolga bene in acqua è assodata nel senso che chiaramente nessuno produrrebbe un farmaco e si metterebbe a vendere un farmaco che poi effettivamente magari si scioglie male banalmente quindi in acqua e c'è una difficoltà nel prenderle quindi da questo punto di vista il marketing ci protegge e quindi possiamo dire che non ci sono delle sostanziali differenze tra farmaci di marca e farmaci generici i più informati di voi però quelli magari un po' più scettici e magari un po' più complottisti si saranno andati a cercare su google quali sono effettivamente le differenze tra queste due tipologie di farmaci esiste un mega giga iper falso mito a proposito dei farmaci generici relativo a una percentuale ovvero nella definizione di farmaco generico si dice che c'è un margine un range dell'85% di diciamo accettabilità rispetto alla biodisponibilità del farmaco quindi qua il complottista mi grida lo scandalo cioè mi dice questa definizione che un farmaco generico può avere l'85% rispetto al 100% di principio attivo del farmaco di marca quindi una differenza se vogliamo sostanziale questa però è un appunto è un falso mito perché questo margine effettivamente del 25% di scarto esiste ma esiste per tutti i farmaci quindi non è una variabile da farmaco di marca a farmaco generico corrispettivo ma è una questione di tutti i farmaci significa che non significa che il farmaco generico costa il 25% in meno perché contiene il 25% in meno di principio attivo assolutamente no ma indica proprio una variabilità intrinseca della biodisponibilità dei farmaci stessi nel senso che quel 25% è dato da una variabilità in noi piuttosto che nella pillolina per spiegarvi meglio proprio in generale i farmaci le pastiglie le dosi dei farmaci in generale vengono ideate su un paziente tipo paziente tipo che sarà uomo o donna e che avrà un peso di circa 70-75 kg quindi questo vuol dire che se io che io Andrea Zappia che sono alto 1,80 m e peso tristemente ormai ve lo dico proprio col cuore infranto quasi 90 kg e lo so dovrò andare a fare un po' di palestra perché ci stiamo buttando via ma a parte le mie delusioni atletiche se io che peso 90 kg mi prendo una aspirina da 500 mg non sto prendendo effettivamente la stessa quantità di farmaco che stai prendendo tu Giovannina che pesi 70 kg ma effettivamente la nostra biodisponibilità sarà diversa perché la concentrazione di quel farmaco su una superficie corporea più ampia come la mia sarà minore rispetto alla tua e quindi questa variabilità intrinseca nella produzione di massa dei farmaci e nella variabilità che le varie persone possono avere corrisponde più o meno al 25% quindi non è che ci stanno vendendo il 25% in meno di farmaco e non è per quello che il farmaco generico costa di meno bevo un sorso d'acqua e proseguiamo la puntata se avete delle domande fatele pure in chat rispetto a questa panzana del 25% volevo anche dirvi che questa variabilità non ha sostanzialmente alcun senso rispetto all'efficacia di un farmaco o meglio non di tutti i farmaci quantomeno dei farmaci che sono prodotti appunto in pillola in dosi così abbastanza generiche esistono dei farmaci dove la quantità la dose è molto più importante andare a appunto dosarla fare una posologia esatta rispetto al peso corporeo perché magari sono pericolosi magari hanno danni da accumulo o magari hanno un'emivita che va calcolata e che quindi posso rischiare dando più volte il farmaco di andare a dare un sovradosaggio quindi in questi casi insomma è fondamentale andare a valutare la quantità mi viene adesso in mente i chemioterapici per esempio visto che sto appunto studiando oncologia ma ci sarebbero un milione di esempi rispetto a questo chiaramente per l'aspirina per l'occhi per tutti questi farmaci che vengono comunque dati anche dietro ricetta dal farmacista generalmente non ci sono di questi problemi quindi possiamo dire in generale che questa variabilità del 25% è assolutamente poco significativa rispetto alla qualità o comunque all'efficacia di quel farmaco quindi abbiamo detto che l'unica reale differenza che possono avere i farmaci generici rispetto al farmaco di marca sono gli eccipienti e qui ancora il come dire il complottista che sta dentro di voi potrebbe pensare che qui caschi l'asino quindi se l'ecipiente è diverso effettivamente una differenza c'è e quindi ci potrebbe essere una differenza anche nell'efficacia del farmaco in realtà no questo viene verificato viene testato anche perché come vi dicevo prima la definizione di eccipiente è di una sostanza fisica liquida solida di qualsiasi tipo che deve e questo è per legge è un obbligo di legge appunto essere farmacologicamente inattiva quindi è per definizione qualcosa che non può influire sull'efficacia del farmaco o comunque non può andare a provocare un aumento o una riduzione della biodisponibilità di quel farmaco e quindi effettivamente non abbiamo alcuna differenza veniamo però alla domanda delle domande se questi due farmaci quindi il farmaco generico e il farmaco di marca sono uguali com'è possibile che il farmaco generico costi di meno e forse perché sono fatti peggio perché vengono fatti con prodotti di scarto perché vengono fatti con prodotti di scelta perché non so inventatevi un altro motivo che perché sono scaccioni perché sono finti perché sono falsi perché hanno meno principi attivi no non c'è nessun motivo di questi non verrebbero chiaramente altrimenti approvati dall'AIFA e da tutti gli altri enti certificatori dei nostri farmaci le motivazioni sono principalmente due per capirle però intanto vi conviene ascoltare le vecchie puntate di Penscienza perché abbiamo parlato di come si produce un farmaco in maniera anche abbastanza approfondita l'ultima puntata che mi ricordo a proposito del quale ne abbiamo parlato è quella su Yochi quindi la puntata su Yorganion Chip vabbè andatela a cercare è una puntata tra l'altro abbastanza bella interessante a mio parere tra l'altro che vi fa scoprire una delle scoperte che abbiamo fatto negli ultimi dieci anni che hanno e stanno rivoluzionando la medicina moderna quindi insomma una puntata importante ma detto questo vi dico proprio in breve un farmaco per essere approvato necessita tot miliardi di euro di dollari e un sacco di tempo anche dieci vent'anni e poi viene studiato nel tempo anche dopo la commercializzazione chiaramente tutto questo queste procedure hanno quel costo che vi dicevo prima quindi uno due miliardi o più di dollari chi scopre un farmaco e quindi chi percorre questa strada investe questi soldi ha diritto ovviamente e giustamente mi viene da dire di andare a mettere un brevetto sulla molecola che ha scoperto e quindi sull'efficacia e sull'utilizzo terapeutico di quella molecola brevettare quindi questa molecola e questo farmaco gli permette di possedere il monopolio possiamo dire tra virgolette di quella molecola e quindi di poterla vendere solo lui quindi se io scopro l'aspirina adesso Bayern non mi denunciare sto facendo chiaramente dei degli esempi a casaccio con dei farmaci che tutti possono conoscere e l'aspirina è uno di questi se io scopro l'aspirina è chiaro che per tot tempo avrò bisogno di recuperare l'investimento che ho fatto per scoprirla che abbiamo detto essere un investimento molto importante cioè soldi che spendono stati interi che chiaramente vengono investiti nella ricerca e nella produzione di nuovi farmaci avrò vent'anni di durata di questo brevetto in cui avrò l'esclusiva di vendita di questa molecola e quindi quello sarà un farmaco diciamo di marca perché tendenzialmente anche le come dire le aziende che sono in grado di permettersi tali investimenti senza fallire considerate che magari dopo aver speso uno o due miliardi di euro o di dollari si scopre che la molecola ha un effetto collaterale quindi finisce con un nulla di fatto e quindi le aziende devono potersi anche permettere di fallire nella ricerca del nuovo farmaco e quindi sono investimenti molto importanti e quindi nell'idea dell'economia del farmaco e comunque dell'economia che viviamo adesso è indispensabile che ci siano questi vent'anni di brevetto e quindi chiaramente il farmaco insomma il farmaco di marca costa dei soldi costa di più e costa di più ovviamente del farmaco generico perché costa di più del farmaco generico perché il farmaco generico non ha bisogno di percorrere la stessa strada sia di tempistiche sia per quanto riguarda gli investimenti che ha compiuto il farmaco iniziale il farmaco di riferimento quando sono passati infatti vent'anni quindi è scaduto quel brevetto allora chiunque sia in grado di produrre quel farmaco con le stesse caratteristiche se non con eccipienti diversi perché devono comunque anche per legge avere delle piccole differenze per insomma una sorta di concorrenza del mercato quindi non posso copiare di sana pianta un farmaco intero ma devo variare almeno un eccipiente però dopo vent'anni quindi quando è scaduto quel cacchio di brevetto io posso io andrei a zappia se ho che ne so 500 milioni di euro posso investire e produrre un'aspirina alternativa quindi un mio farmaco generico con lo stesso principio attivo chiaramente deve questo farmaco avere tutte le approvazioni da parte degli enti certificatori dall'AIFA dall'EMA quindi non è che questo mi permette di saltare dei passaggi o meglio sì in realtà perché l'unico passaggio che posso saltare io che sto producendo il farmaco generico è che non devo rifare la sperimentazione e quindi tutta la fase preclinica non ho l'obbligo ovviamente di farlo perché è stato già fatto da qualcun altro non avrebbe senso andare a ritestare la medesima molecola perché mi darebbe gli stessi risultati a patto che ovviamente la molecola sia proprio la stessa e quindi questo chiaramente è normato dalle nostre leggi e che ci sia la variazione appunto solo dell'ecipiente quindi di sostanze diciamo additive che possono variare il gusto piuttosto che la solubilità in acqua o la presenza di coloranti o meno quindi tutto ciò che non può effettivamente dare insomma delle vere e proprie controindicazioni o comunque che non può andare ad alterare la biodisponibilità del farmaco quindi diciamo che di base il farmaco quindi il principio attivo che è quello la cosa importante insomma del farmaco deve essere esattamente la medesima con le stesse dosi con le stesse qualità con le stesse insomma con tutti i crismi e quindi chiaramente è per questo che un farmaco generico costa di meno perché io non ho dovuto sperimentare la sperimentazione l'ha già fatta un altro per me io arrivo dopo che è scaduto il brevetto e di conseguenza potrò avere un prezzo più competitivo chiaramente nel farmaco che produco ciao marinella ben arrivata inoltre ci sono due questioncine legali che però di questa non sono assolutamente certo perché non ho trovato fonti affidabilissime quindi se voi trovate qualche altra informazione sarò felice di ascoltare nel caso di essere smentito se mi sto sbagliando ma un farmaco di marca secondo le mie fonti deve costare assolutamente dai 0,5 ai 2 euro in più del farmaco generico e questa è appunto una norma di legge per favorire lo sviluppo dei farmaci generici inoltre il prezzo pagato dal sistema sanitario nazionale quindi dalla sanità pubblica dalle nostre tasse insomma per un farmaco generico e per un farmaco di marca è esattamente lo stesso e altra cosa importante è che sia il medico sia il farmacista hanno l'obbligo sempre per legge di indicare al paziente quindi a voi che state ascoltando e a me nel caso diventi paziente hanno l'obbligo di comunicare la presenza della possibilità di utilizzare un farmaco generico alternativo rispetto a quello di marca tutte queste norme sono sostanzialmente delle norme a protezione economica del paziente e dico questo perché è chiaramente un farmaco generico che funziona tanto quanto un farmaco di riferimento se costa meno chiaramente per il paziente è un risparmio ed è solo per il paziente un risparmio perché abbiamo detto che il sistema sanitario nazionale paga la stessa quantità per farmaco generico e farmaco di marca e quindi è tutto a nostro vantaggio la presenza di questi farmaci che però sono coperti da questo alone di sfiducia a mio parere che è proprio dato dal fatto che vengono chiamati farmaci generici che quindi ci fanno sentire come se dovessimo curarci con un farmaco di seconda scelta quando in realtà questo assolutamente non è così esistono farmaci diciamo di farmaci generici che funzionano anche meglio dei farmaci di marca questo poi nel quotidiano nella pratica quotidiana di un medico si scopre col tempo nel senso che ci sono alcuni farmaci che contengono alcune sostanze quindi non vanno date da alcuni pazienti altri che invece funzionano benissimo come generici quindi insomma è una questione un po' delicata da questo punto di vista non voglio espormi troppo ma sappiate che i farmaci generici sono assolutamente paritari come qualità al farmaco di marca se non in alcuni casi nel gusto che come detto prima è qualcosa di soggettivo e che soprattutto non è a mio parere così tanto influente sulla scelta di una terapia specialmente se andiamo a risparmiare magari il 25 30 o 40 per cento del prezzo quindi non sono assolutamente farmaci di seconda scelta se vogliamo una piccola differenza ci può essere sì in due categorie di di caratteristiche che adesso vi dico appena riesco a bere un goccio d'acqua e c'ho un'arsura incredibile allora una in realtà l'abbiamo detta prima il gusto ma ci interessa per niente abbiamo un altro effetto importante però che è l'effetto placebo anche dell'effetto placebo abbiamo parlato abbondantemente nelle scorse puntate di penscienza vorrei fare in realtà un'altra puntata ancora ma non ho ancora finito di leggere quel libro che avevo iniziato tempo fa che è 5000 anni di effetto placebo un libro bellissimo che se siete un po' appassionati di scienza e medicina vi consiglio di leggere non è facilissimo da leggere però che sono sostanzialmente una serie di studi scientifici in fila quindi il libro è tipo alto così ma ci vogliono sei mesi per leggerlo perché è un po' complesso fatto sta che l'effetto placebo può essere importante nella scelta di un farmaco cioè in effetti se un paziente percepisce che il farmaco generico è il farmaco scadente o che il farmaco generico è il farmaco di seconda scelta lì ci potrebbe essere effettivamente un effetto placebo in senso negativo quindi un effetto nocebo di quel farmaco o magari in generale una riduzione dell'efficacia perché il paziente si sente poco curato perché il dottore mi ha dato il farmaco dei scemi il farmaco di seconda scelta sappiate che non è assolutamente così se il vostro medico vi suggerisce un farmaco generico fidatevi assolutamente perché poi come detto prima nella pratica clinica si sa quali sono i farmaci che funzionano bene quindi insomma non fatevi assolutamente problemi nel prendere il generico l'altra questione importante a mio parere nella differenza tra farmaco generico e farmaco di marca è la scatola so che sembra qualcosa di stupido però in realtà non lo è assolutamente perché non è soltanto una questione di marketing di mero marketing quindi il farmaco di marca è quello con la scatola più bella più figa col packaging più curato eccetera eccetera non è lì che voglio andare a parare ma molto spesso gli anziani specialmente riconoscono i farmaci che prendono non dal nome né tantomeno dal principio attivo che assolutamente non ricorderanno mai o penseranno di ricordare ma che in verità non c'entra niente infatti quando si fanno le anamnesi in ospedale bisogna sempre stare molto attenti a cosa dice il paziente è sempre meglio vedere proprio fisicamente le scatole che hanno che di solito tra l'altro se le portano in giro ovunque quindi è più affidabile non ci si fida quasi mai di quello che il paziente specialmente se molto anziano ci dice anche perché molto spesso non sanno quale farmaco cura che cosa quindi ti dicono eh sì prendo il farmaco per l'ipertensione e poi ti dicono che prendono il Gaviscon cioè delle robe che non c'entrano assolutamente niente ma queste sono mie freneticazioni come ci stavo dicendo prima rimaniamo aderente alla puntata se no non finiamo più e la scatola è il veicolo di riconoscimento del farmaco per i pazienti anziani e quindi il paziente viene si educa insomma impara a capire nel quotidiano quale farmaco prende da quale scatola e quindi questo influisce anche sull'acquisto di quella scatola chiaramente e quindi può essere insomma importante da questo punto di vista tutte quelle cose che di solito nel marketing tendono a confonderci quindi ad attirare la nostra vista solo per farsi acquistare in questo caso nell'utilizzo di farmaci potrebbero essere utili per essere ricordati e quindi questo si potrebbe essere una differenza importante perché in genere non sempre i farmaci generici hanno delle scatole un po' più bruttine un po' più anonime ma questo effettivamente per una persona come dire cosciente di quello che sta acquistando non fa nessuna differenza perché poi è ben detto che il farmaco all'interno è effettivamente lo stesso e quindi è valido tanto quanto un discorso similare che vorrei fare prima di chiudere la puntata è quello degli integratori nel senso che insomma lo so se ascoltate di pen scienza ormai saprete che ce l'ho un po' con gli integratori in realtà non è che io ce l'abbia effettivamente con gli integratori o con le persone che prendono gli integratori anche se ho fatto una puntata di integratori la truffa perfetta andate ad ascoltarla non è così ma c'è molto marketing troppo marketing in questo caso negativo non come quello che dicevo prima dei farmaci e delle scatole dei farmaci generici questa puntata in realtà e questa questione degli integratori mi viene scatenata da una domanda che mi ha fatto mia suocera quindi ringrazio per questa idea perché l'altro giorno stavamo parlando e è venuto fuori che io compro i fermenti lattici da Aldi tra l'altro Aldi se quando ci vuoi sponsorizzare io sono qua so cosa devo fare tra un po' per farmi sponsorizzare da Aldi tra un po' gli mando le lettere perché ho fatto anche casa sostenibile cioè è incredibile vabbè Aldi mandami una mail ci mettiamo d'accordo comunque questi fermenti lattici io li pago 1 euro e 49 adesso non voglio fare pubblicità spudurata ad Aldi ma è solo per farvi capire anche il discorso che facevo nella scorsa puntata dei degli integratori mia suocera quando ho sentito questa cosa gli sono sbarati gli occhi cioè i fermenti lattici se fate una rapida ricerca anche su google in due secondi vedrete robe fuori di testa cioè fermenti lattici che arrivano a costare 50-60 euro per le stesse 10 buste di fermenti lattici che prendi da Aldi a 1,49 euro Aldi sponsorizzami sono qui ti faccio da Ambassador quindi cosa vuol dire è un po' lo stesso la stessa questione del farmaco generico e farmaco di marca cioè il farmaco di marca non avranno quasi mai questa differenza di prezzo che è molto più impattante appunto negli integratori per esempio anche nei fermenti lattici e di solito ti rapiscono con il fatto per esempio dei fermenti lattici che all'interno ci sono 10 miliardi di di batteri che si riproducono all'istante un altro ne ha 20 miliardi un altro 40 miliardi incredibile numeri devastanti che assolutamente non servono a niente perché se sapete un minimo di biologia i batteri che fanno parte della flora batterica e che sono contenuti anche nei fermenti lattici si riproducono una volta ogni 20 minuti quindi vuol dire che il numero dei batteri contenuti in quella bustina che andremo a ingerire poi nel nostro intestino raddoppierà ogni 20 minuti quindi un numero elevato alla seconda che col tempo tenderà verso più infinito dovete sapere dovete sapere anche che nel nostro intestino si possono sviluppare un tot di batteri che fanno parte della flora batterica che ha un numero massimo di batteri che può contenere e questa è una delle metodiche col quale si riduce la popolazione dei batteri che non sono buoni che non devono far parte della nostra flora questo occupare tutto lo spazio possibile da parte dei batteri buoni fa sì che non ci sia spazio virtuale chiaramente per i batteri cattivi questa velocità di riproduzione dei batteri vuol dire sostanzialmente che se io avessi un solo batterio nel giro di nove ore da quel solo batterio ne produrrei 268 milioni quindi capite bene che questi numeri insomma se avete un po' di dimestichezza con i numeri esponenziali saprete che andando avanti col tempo la differenza sarà sempre più sottile rispetto al numero iniziale di batteri che ho preso quindi non serve assolutamente a niente prenderne un milione 10 milioni 5 milioni 14 milioni perché nel giro di 8 9 ore saranno lo stesso numero perché avranno saturato lo spazio virtuale che il nostro intestino gli permette però ovviamente più aumenta quel maledetto numero più ci fanno pagare e questa è sostanzialmente a mio parere una sorta di frode nel senso che chi non conosce questi concetti chiaramente si fa abbindolare dalla questione numero che ovviamente viene spiattellato in grande sulla sulla maledetta scatola che poi inizia ad essere molto colorata che inizia ad essere un po' più figa eccetera eccetera magari con la boccetta in vetro e te la fan pagare 45 euro sappiate che non c'è nessuna differenza l'unica differenza che ci può essere tra un fermento lattico e l'altro è il numero di ceppi di batteri che sono contenuti ma anche questo ha un'importanza tutto sommato poco rilevante anche perché quelli da di Aldi insomma da 1 euro e 49 ne contengono 2 mentre quelli più blasonati da 50 euro ne contengono 3 ma assolutamente non praticamente non fa nessuna differenza e questo è un po' il discorso anche del farmaco generico farmaco di marca cioè se l'effetto è lo stesso ma il prezzo è totalmente squilibrato a volte questo ci crea in testa una sorta di bias cioè quello che costa meno fa schifo quello che costa di più per forza deve essere migliore assolutamente no non è così i farmaci generici così come tutti gli integratori praticamente andate ad ascoltare la puntata su integratori hanno le stesse regole hanno gli stessi enti certificatori devono seguire le stesse linee guida e quindi saranno efficaci altrettanto poi ci sarà uno che funziona un pochino meglio uno che funziona un pochino peggio ma insomma la storia degli integratori la conoscete se non fate sport a livello agonistico non vi cambia assolutamente niente e dal punto di vista dei farmaci è ancora più tutelato perché questi farmaci devono assolutamente essere identici se non nel gusto e in poche altre cose che sicuramente avrete capito dall'ascolto di questa puntata quindi scusate se mi sono un po' inalberato perché sto nel marketing sapete quando si parla di integratori mi parte un po' la barella ma detto questo spero che i vostri acquisti saranno più coscienti in futuro fidatevi dei vostri medici fidatevi dei medici dei farmaci generici perché sono efficaci tanto quanto spero che la puntata vi sia piaciuta spero di ricevere tanti like tanti commenti tante condivisioni tante cose belle tante tante recensioni anche su apple podcast e spotify se mi state ascoltando su apple podcast e spotify venite schiacciati su iscriviti perché anche quello ci aiuta tantissimo e soprattutto non perdetevi le prossime puntate di Deep in Scienza quindi io vi saluto spero che la puntata vi sia piaciuta io me ne vado a mangiare il mio fantastico goulash e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Deep in Scienza ciao